Un mese di tempo per arrivare a discutere ed approvare il bilancio di previsione del 2020. Dopo le ultime variazioni dello scorso dicembre che hanno permesso di realizzare alcuni interventi di manutenzione, l'amministrazione di Torre d'Isola punta con decisione all'approvazione del documento economico per il nuovo anno. Ed anche in questo caso, grande attenzione, verrà riservata ai lavori pubblici su diverse strade cittadine. Come dicevi, alla fine del 2019 abbiamo fatto le ultime variazioni, le ultime correzioni al bilancio del 2019 per fare gli ultimi interventi in particolar modo di manutenzioni e adesso con l'avvio del nuovo anno, nel mese alla fine di febbraio, andremo a discutere, ad approvare il nuovo bilancio, il bilancio 2020. Nel previsionale prevediamo ancora grandi risorse per le manutenzioni, con la primavera partiranno i lavori di sistemazione della via De Paoli, la via che dal parcheggio porta allo svincolo di Torre d'Isola, con anche un leggero ampiamento della strada, perché come sappiamo tutti è molto stretta, è un lavoro da circa 20.000 euro. Ci saranno interventi anche sullo svincolo, quindi sul ponte, sul cavalcavia, che passo per l'accordo sul quale è necessario rifare il tappetino per le numerose buche, anche lì è un intervento da circa 50.000 euro. Lavori pubblici, ma non solo, grande attenzione verrà destinata dall'amministrazione comunale anche alla valorizzazione e alla tutela delle numerose aree verdi, in particolare giardini e parchi, presenti in paese. Poi tanti altri interventi in giro per il territorio. Ovviamente anche quest'anno ampie risorse verranno destinate alla bellezza che ci circonda, quindi alla natura e quindi al mantenimento dei giardini, dei parchi, di tutte le aree verdi che a Torre d'Isola sono tantissime e sono di grande bellezza. Quindi nuove piantumazioni in nuove aree che devono essere valorizzate, potature, sistemazioni di parchi giochi, di giochi all'interno dei parchi giochi, dei giardini delle scuole. Tutti questi interventi avranno, come dire, finanziamento grazie al nuovo bilancio 2020. Con il nuovo documento economico dell'ente si porterà avanti infine il processo di efficientamento energetico avviato negli ultimi anni. Ovviamente parallelamente anche l'efficientamento energetico andrà avanti. È un lavoro che stiamo portando avanti negli ultimi anni da circa tre anni e anche su questo dovremo proseguire questo cammino che ci potrà essere sempre più efficienti e anche a risparmiare risorse da poter utilizzare su altri versanti.